Anche quest'anno Rete Veneta rinnova l'appuntamento con la rubrica dedicata proprio ai vostri presepi. Un viaggio nella tradizione grazie alle vostre segnalazioni che vi invitiamo a inviarci via mail a vicenza-reteveneta.it via whatsapp al numero 351-175-1866 o ancora sulla nuova pagina facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Verremo a casa vostra a riprendere i vostri presepi facendoveli raccontare. Li trasmetteremo poi nel nostro telegiornale come il presepe che vedete in queste immagini. Si tratta di un presepe esposto in una farmacia in piazza dei signori. Allestire un presepe è una scelta precisa della titolare, non è una semplice decorazione per i propri clienti. Per me rappresenta il Natale perché in famiglia si aveva sempre questa tradizione e in casa c'era questo profumo del muschio con il coro. Difatti anche quelle cose che ho io le ho prese in America, le ho acquistate a Chicago. È proprio la tradizione dei cantori. Un auguro veramente di pace e di condivisione di tutti.